Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda per traffico tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello in direzione di Roma. In Fipili restano rallentamenti per traffico tra la strassegna e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiato opposta rallentamenti all'altezza di Firenze Scandicci. Prudenza inoltre per il maltempo si segnalano pioggia e vento forte su gran parte della Toscana, prevista neve sul tratto appenninico della 1 e localmente in altre zone della regione. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali e raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Per i lavori del raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Monte Catini Terme, la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 15 di domani, sabato 2 febbraio alle 5 di lunedì 4 febbraio mattina tra Pistoia e Monte Catini Terme. Previsto un servizio sostitutivo con bus via autostrada a 11. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!